amici di oreca news bentornati continua il nostro viaggio itinerante all'interno degli stand di cibus 2021 oggi siamo al quarto giorno e è stato davvero molto complicato riuscire a prendere sul fatto i vari relatori per poter riuscire a parlare con loro vista la grande affluenza agli stand oggi siamo collegati con franco lusetti l'amministratore di foodness spa un'azienda votata al freeform ea una lunga serie di prodotti che magari ci facciamo descrivere proprio da franco lusetti franco benvenuto buongiorno allora siamo riusciti finalmente siamo riusciti a beccare finalmente anche te c'è stata una davvero una grande affluenza al cibus 2021 e anche al vostro stand la tua percezione al quarto giorno di fiera qual è la tua percezione dobbiamo cercare le somme direi che siamo la percezione ottima abbiamo avuto dei contatti veramente importanti non mi aspettavo onestamente di dividere la provincia così interessata alla fiera le persone erano tutte del settore quindi canale a a noi più congeniale per cui l'orecca e anche la gdo rtl e siamo molto contenti molto contenti è la prima volta che facciamo questa fiera ma io nei 40 anni di esperienze e quindi di fiere contatti così importanti come abbiamo avuto oggi qui a cibus 2021 direi che non mi sono mai capitati quindi sono molto contento bene è una grande soddisfazione anche per l'organizzazione fiere di parma spa che ha tanto lavorato per far sì che riuscisse al meglio questa prima fiera dopo 18 mesi di sospensione a causa dell'emergenza sanitaria e allora franco in breve che cosa avete presentato qui a cibus 2021 allora guarda la novità più importante quella che ha risosso maggiore successo e interesse è la crema fredda a caffè pronta che la presentiamo in due formati adesso non so se riuscite a vederla il primo è una confezione monodose adesso ve la faccio vedere che è questa in vasetto per cui è una confezione take away la prima il caffè che c'è all'interno è praticamente la stessa che trovate nei bar nel granitore quindi noi siamo riusciti a confezionarla in UHT questo vasetto take away ha una scadenza di sei mesi può essere conservata fuori dal frigo ma si consuma chiaramente fredda quindi il prodotto è piaciuto molto sia in tutti i canali direi quindi ORECA, GDO e Vending l'altro prodotto scusa per questo prodotto per questo prodotto di cui hai mostrato il packaging esiste una una palettina un cucchiaino per poterlo consumare sul posto assolutamente diciamo che abbiamo due due formati questo che vi ho fatto vedere prima è il formato retail poi abbiamo il formato che è questo che vedete non so se riuscite a vedere si lo vediamo diciamo ha il tappo con il cucchiaino di betulla quindi già a norma e noi come sai siamo anche carbon neutro per cui siamo molto attenti ai materiali che utilizziamo quindi è un coperchio che contiene anche un cucchiaino usaggetta di betulla e questo lo viene indirizzato nel canale Vending quindi i distributori automatici quelli refrigerati il cliente anche l'ufficio in azienda o meno può gustarsi la crema fredda che prima era una prerogativa che poteva avere solo il bar oggi abbiamo reso questo prodotto disponibile in tutti i canali e ci stiamo spiegando abbiamo il le confezioni sono nel vasetto oppure nel brick questo è il formato oreca ok non so se si vede si 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 è un brick da litro è un brick da litro che contiene praticamente lo stesso prodotto e può essere utilizzato dal barista in alternativa alla granitore per cui gli toglie tutte le problematiche che oggi hanno le attrezzature quindi assistenza, manutenzione, pulizia e quant'altro il prodotto si conserva anch'esso in temperatura ambiente e quando il barista lo deve usare lo mette in frigo una volta aperto si conserva una settimana nel frigo con un brick fanno circa 10-12 bicchieri quindi è molto interessante sia nel canale oreca che nel canale catering, ristorazione, bar, pizzeria, alberghi e poi sicuramente è una risposta perché l'altro problema è che nel canale oreca il granitore appena arrivano i primi freddi viene tolto ok per cui il consumatore non ha più la possibilità non è che togliendo il granitore va via anche la voglia di bere la crema caffè, la voglia di consumare la crema caffè al consumatore rimane anche per tutto l'inverno per cui questa confezione consente al bar di poter, visto che i consumi comunque caleranno perché chiaramente il percepito è diverso però chi vuole gustare comunque una crema fredda, una crema caffè anche d'inverno lo può fare tranquillamente perché con questo prodotto gli consente di poterlo fare in modo agile senza problematica poi vabbè queste sono le due novità diciamo la novità che ha riscosso più successo è interesse degli operatori qui del settore dei vari canali poi comunque presentiamo tutta la gamma diciamo il nostro core business che è tutte bevande calde e solubili come vedi abbiamo un'esposizione con le attrezzature macchinette eccetera eccetera e questo è il nostro che ripresenteremo di nuovo all'host qui a ottobre bene e noi naturalmente saremo presenti in presenza per poterli mostrare in alta definizione attraverso le nostre interviste Franco io vorrei farti mille altre domande me le riservo però per host 2021 che si terrà tra poche settimane e ti lascio ai tuoi affari perché siamo riusciti a collegarci dopo tante interruzioni con quasi un mezzo di fortuna considerando che sono davvero tante le persone che stanno venendo al vostro stand e che richiedono maggiori informazioni sui prodotti da voi realizzati e distribuiti e allora buon lavoro e grazie per la disponibilità grazie Fabio buongiorno a tutti amici noi noi continuiamo con le nostre interviste in remoto con il collegamento in diretta streaming talvolta anche con qualche problema di collegamento qualche ritardo di qualche secondo nella comunicazione proprio perché le celle dei ripetitori di Cibus che sono presenti a Fire di Parma in questo momento sono tutte sovraccariche e dunque qualche piccolo problemino lo abbiamo anche noi con i collegamenti ma teniamo duro anche noi vogliamo accompagnare questa ripartenza e tutti i player che contentissimi devo dire dopo quattro giorni di manifestazione fieristica stanno presentando attraverso i nostri strumenti i loro prodotti non andate via ci rivediamo tra poco con una nuova intervista grazie